C'è da notare leggendo gli Evangeli di come spesse volte l'incomprensione del messaggio di Gesù era notevole. Il principale messaggio di Gesù infatti era il Regno di Dio. Gesù ci parla costantemente del Regno di Dio o del Regno dei Cieli, mentre gli Apostoli avevano ancora a mente il Regno di Israele, oramai terminato da tempo. Gesù, per esempio, parlava di umiltà, di servizio, di carità, ma i discepoli sono ancora attratti da pensieri di gloria, di potenza, di forza, persino al dominio terreno. Il Regno di Dio è quella dimensione universale e pervasiva che arriva a tutti, un Regno di una qualità nuova ed eterna. Purtroppo pregiudizi tradizionali, insegnamenti sedimentati da tempo, impariamo da questo, sono di impedimento alla comprensione alle parole di Gesù. Talvolta più si è lontane, anche se questo può sembrare paradossale, dall'ambiente religioso, tradizionale, più si percepisce la freschezza, la bellezza, le verità divine portate da Gesù. Infatti, più si è chiusi, più si è impossibilitati a comprendere il Regno di Dio, ovvero il governo di Dio. Il Regno consiste da parte di Dio nel comunicare all'uomo il suo amore, incondizionato, un amore che non guarda i meriti, una disposizione di grazia che viene offerta e che chiede solo di essere in Cristo ricevuta. E i cristiani sono chiamati a fare da ambasciatori di questo Regno. Il Regno di Dio e di Cristo è un Regno di qualità nuova, di qualità eterna. È un regno eterno, infatti, perché il Regno di Dio, come scriverà l'Apostolo Paolo, non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Romani, capitolo 14, verso 17. Grazie a tutti.